Filippo Timi è uno degli attori, scrittori e registi italiani più poliedrici e affascinanti della scena contemporanea. Nato il 27 febbraio 1974 a Perugia, in Umbria, Timi ha saputo costruirsi una carriera variegata e innovativa, diventando una figura di spicco non solo nel mondo del cinema, ma anche nel teatro e nella letteratura. La sua personalità magnetica e la sua versatilità artistica lo hanno reso un interprete apprezzato e riconosciuto, capace di passare con disinvoltura da ruoli drammatici a commedie surreali, portando sempre sul palco e sul grande schermo una sensibilità unica. Lo stile di Filippo Timi è caratterizzato da una fusione di elementi contrastanti, il tragico e il comico, il grottesco e il realistico, l'alto e il basso. La sua recitazione è fisica, intensa e spesso sopra le righe, ma sempre autentica e profondamente umana. Timi non ha paura di mettere a nudo le proprie fragilità, portando in scena personaggi che vivono ai margini della società, con una visione spesso critica e ironica della realtà. Nel corso della sua carriera, Filippo Timi ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, sia per il suo lavoro teatrale che cinematografico. Tra i premi più significativi ci sono il David di Donatello e il Nastro d'Argento, che confermano la sua importanza come figura di spicco nella cultura italiana contemporanea. L'11 gennaio 2024 rimarrà una data difficile da dimenticare per Filippo Timi, il celebre attore italiano noto per il suo carisma e la sua energia inesauribile. Quel giorno, intorno alle 13.34, un grave incidente automobilistico lo ha coinvolto nel cuore di Roma, lungo la trafficata via del Tritone. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, suscitando preoccupazione tra i fan e i colleghi dell'attore, notoriamente amato per la sua versatilità artistica e il suo spirito indomito. L'incidente, una ruota che cambia tutto. Secondo le prime ricostruzioni, Filippo Timi stava guidando in direzione del centro di Roma quando, all'improvviso, una delle ruote anteriori della sua auto si è staccata, provocando un'immediata perdita di controllo del veicolo. L'auto ha sbandato, andando a colpire il marciapiede ad alta velocità, ribaltandosi su un fianco. Il rumore dell'impatto è stato così forte da richiamare l'attenzione dei passanti, che si sono subito precipitati in aiuto. Alcuni testimoni hanno descritto la scena come caotica e spaventosa, con detriti sparsi lungo la strada e un clima di panico generale. Nonostante la drammaticità dell'incidente, Filippo Timi è rimasto cosciente durante tutto l'accaduto, cercando di liberarsi dalle lamiere del veicolo ribaltato con una calma impressionante. In pochi minuti i soccorsi sono giunti sul posto e i vigili del fuoco, grazie alla loro esperienza, hanno proceduto con rapidità a estrarre Timi dall'abitacolo. I primi soccorsi e il trasporto all'ospedale e un'ambulanza è arrivata immediatamente per fornire i primi soccorsi. Filippo Timi, sebbene in stato di shock, era vigile e rispondeva alle domande del personale sanitario, segno che le sue condizioni, per quanto serie, non erano critiche. Dopo un rapido check-up sul posto, è stato deciso il trasporto d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco, una struttura specializzata in traumi d'emergenza. Lì, Timi è stato sottoposto a una serie di esami, compresi raggi X e TAC, per valutare eventuali lesioni interne o fratture. La preoccupazione di Sebastiano Mauri e il supporto dei fan Sebastiano Mauri, marito di Filippo Timi e noto regista, è stato informato dell'incidente pochi minuti dopo l'arrivo di Timi in ospedale. Si è recato immediatamente al pronto soccorso, visibilmente scosso, ma determinato a stare vicino al suo compagno. L'emotività di Mauri è stata catturata da diverse telecamere all'ingresso dell'ospedale, mentre si faceva strada tra i giornalisti e curiosi che si erano già radunati. Nel frattempo, i fan di Timi, informati dell'accaduto tramite i social network e le notizie televisive, hanno iniziato a esprimere la loro preoccupazione con messaggi di incoraggiamento e sostegno. Molti si sono radunati fuori dall'ospedale, sperando in buone notizie e tenendo alta l'attenzione su ogni aggiornamento riguardante le condizioni dell'attore. L'esito degli esami e il ricovero prolungato, dopo alcune ore di attesa e tensione, il team medico ha rilasciato una prima dichiarazione sulle condizioni di Filippo Timi. Fortunatamente l'attore non aveva subito fratture gravi, ma presentava diversi contusioni e una commozione cerebrale lieve. I medici hanno deciso di trattenerlo in ospedale per un periodo di osservazione, per monitorare eventuali complicazioni e assicurarsi che non emergessero problemi successivi. Il ricovero di Timi è stato caratterizzato da una grande attenzione mediatica. Nonostante la discrezione richiesta dal personale ospedaliero, alcuni dettagli sulle sue condizioni sono trapelati, rivelando che l'attore stava affrontando il periodo di osservazione con grande coraggio e determinazione. Ha ricevuto numerose visite, non solo dai familiari, ma anche da amici stretti del mondo dello spettacolo, che hanno voluto esprimere il loro affetto e la loro vicinanza. Un'indagine accurata sulle cause dell'incidente. Mentre Filippo Timi iniziava il suo percorso di guarigione, le autorità competenti hanno avviato un'indagine approfondita per chiarire le cause dell'incidente. La dinamica del distacco della ruota, infatti, ha sollevato numerosi interrogativi. Gli esperti della Polizia Stradale, in collaborazione con periti meccanici, hanno esaminato il veicolo per capire se il problema fosse legato a un difetto di fabbrica, a una manutenzione inadeguata o a un danno provocato da fattori esterni. La casa automobilistica coinvolta, produttrice del modello guidato da Timi, ha annunciato che avrebbe collaborato attivamente con le indagini, mettendo a disposizione tutti i dati tecnici necessari. Tuttavia, la vicenda ha sollevato dubbi sulla sicurezza di alcuni componenti delle vetture di recente fabbricazione, spingendo molti a richiedere un rafforzamento delle norme di controllo e manutenzione. La fase di recupero. Tra fisioterapia e ritorno alla normalità. Dopo diversi giorni di osservazione, Filippo Timi è stato dimesso dall'ospedale San Giovanni Bosco, ma il percorso di recupero era appena iniziato. L'attore ha dovuto affrontare un periodo di riabilitazione fisica, con sessioni di fisioterapia, per alleviare le conseguenze delle contusioni subite. La determinazione di Timi nel riprendersi rapidamente è stata evidente. Ha voluto condividere i suoi progressi con i fan attraverso i social, mostrando gratitudine per il sostegno ricevuto. Sebastiano Mauri, sempre al suo fianco, ha descritto quel periodo come un momento di rinascita per entrambi. In diverse interviste ha sottolineato quanto l'incidente abbia rafforzato il loro legame, facendoli riflettere sull'importanza di vivere il presente e di non dare nulla per scontato. La reazione del pubblico e dei colleghi del mondo dello spettacolo, il mondo del cinema e del teatro italiano, ha mostrato un grande sostegno nei confronti di Filippo Timi. Numerosi colleghi hanno espresso pubblicamente la loro solidarietà, inviando messaggi di pronta guarigione e lodando il coraggio dell'attore nel superare un evento così traumatico. Alcuni hanno anche colto l'occasione per riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza della sicurezza, sia nella vita quotidiana che nelle produzioni cinematografiche e teatrali. Un ritorno atteso sul palcoscenico. Nonostante l'incidente, Filippo Timi ha dichiarato di essere pronto a tornare in scena, più motivato che mai. La sua passione per il teatro e il cinema, infatti, non è stata minimamente scalfita dall'esperienza vissuta. Ha annunciato che, una volta completato il percorso di riabilitazione, riprenderà i suoi impegni artistici con l'obiettivo di portare avanti i progetti a cui teneva da tempo. Conclusione. Una lezione di vita e resilienza. L'incidente di Filippo Timi è una storia di resilienza che sottolinea la forza d'animo necessaria per affrontare le avversità e l'importanza del supporto familiare. In un'intervista rilasciata dopo la dimissione dall'ospedale, l'attore ha ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine, definendo l'accaduto una dura lezione di vita, che lo ha reso ancora più consapevole del valore di ogni giorno. Questa esperienza, per quanto dolorosa, ha dimostrato quanto Filippo Timi sia capace di affrontare le sfide con il sorriso e la determinazione che lo hanno reso uno degli attori più amati d'Italia. Con il suo ritorno, non solo riporterà la sua energia sui palcoscenici e sugli schermi, ma offrirà una testimonianza di speranza e forza per chiunque stia affrontando difficoltà simili.